Ma essere Simone di Pencher fa scopare di più? La frase è buttata così in muschio selvaggio che ovviamente non è... Signori, benvenuti in una nuovissima puntata di Immigrati Podcast. Noi siamo quattro quarti TV perché oltre agli spaghetti c'è di più. Ormai, lo ripeto la nausea, insomma, sta cacci frase. Inizia a starmi sul cazzo. Sta cacci frase. Allora, come potete vedere, siamo con un ospite perché in questo format ormai vi abbiamo abituato così. Abbiamo di fianco a noi Simone di Pencher, proprio il cognome di Pencher. Simone Gavazzi di Pencher, esatto. Simone Gavazzi di Pencher, l'ha cambiato tipo ieri, l'altro ieri? Un'anagrafe. Allora, perché abbiamo Simone qua di fianco? Beh, innanzitutto, se vuoi introdurti un pochettino, dici un po' che cosa fai, perché appunto di Pencher, se vuoi anche spiegarlo per chi non lo conoscesse già. E insomma, che cosa fai nella vita, tutto il resto. Allora, mi chiamo Simone Gavazzi e mi occupo di diritti umani. Ho una laurea in scienze politiche, filosofia politica e in particolare riferita all'Unione Europea, perché dopo ne parleremo. L'ho fatta in Olanda, Maastricht. E poi mi sono specializzato in legge internazionale di diritti umani. E ora, nella mia vita in generale, ho vari progetti, ma tutti riguardano il campo dei diritti umani. Ok, ok. Quindi molto impegnato sulle tematiche diritti umani. E allora, perché ti abbiamo qui? Perché, come hai già accennato, sei stato sette anni in Olanda e hai studiato lì. Quindi, diciamo che questo viaggio è organizzato a capitoli. Ogni capitolo avrà il proprio voto. Insomma, sarei tu a dirci il voto che decidi di dare a ogni parte. E, come sempre, si parte da la bandiera. No, non si parte dalla bandiera, ma è un mio argomento preferito. Intanto, io voglio sapere com'è fatta la bandiera dell'Olanda. Così, mettete a disagio le persone. Assolutamente. Non solo bandiera, ma anche posizione geografica. Esatto, esatto. Allora, partiamo dalla posizione geografica. E il numero di abitanti. Il numero di abitanti lo so. Lo so il numero di abitanti. Vai, vai, prego. Allora, l'Olanda si trova nel nord dell'Europa. Fa parte dei paesi Benelux, quindi Belgio, Lussemburgo e Olanda. Wow, è la prima volta che sento questo acronimo. Allora, in realtà lo conoscevo già, ma non lo sentivo da molto. Quindi me l'hai riaccesa. È un acronimo, a dir la verità, che è stato fatto perché c'è stato un patto tra questi tre paesi. Inizialmente, quando si voleva fare l'Unione Europea, prima l'idea era di unirsi e loro talessi erano uniti. Adesso, non vorrei sbagliare, ma era 1944. Ok. E sono tutti e tre poi stati fondatori dell'Unione Europea. Quindi il Benelux, a dir la verità, esiste ancora. Ok. Ci sono le varie sedi. Certo. Certo. Ciamo i veri, i primi, insomma. Sono stati i primi che, esatto, si sono uniti. Esattamente. Per quanto riguarda poi, appunto, allo sbocco sul mare, il mare del Nord, e confina con la Germania, con il Belgio. Ok. E basta. Basta. Dovremmo esserci, dovremmo esserci. Non scopriremo se è davvero così. Non scopriremo. Allora, la prima cosa che bisogna fare quando si decide di trasferirsi o comunque fare un viaggio è sicuramente l'organizzazione. Ok? Bisogna organizzarsi. Quindi, capito l'organizzazione. Prima di tutto, la prima curiosità che vorremmo sapere è, hai deciso di affidarti a qualcuno per questo tuo trasferimento? Prima di tutto, la decisione è da che cosa è nata e qualcuno, appunto, è stato lì ad assisterti e a dirti, guarda, secondo me questa meta ci potrebbe stare, potresti fare così, cosa ha, prendere appartamento di là. Allora, prima dell'organizzazione, secondo me, c'è la scelta. Cioè, la scelta di partire. Che è molto interessante il perché, secondo me, una persona parte. Assolutamente. Da quando il pensiero nasce, quando poi c'è una vita, da quando il pensiero nasce, quando poi viene attuato, ecco, nel mio caso il pensiero è nato e il giorno dopo è stato messo in pratica. Cioè, quando ho deciso di partire, avevo deciso di partire, mi è arrivato il pensiero in quel momento e sono partito. Cioè, sarai impulsivo. In un giorno hai detto, hai fatto tutto. Sì, poi tempi magari tipo di una settimana per cercare un posto dove stare. Perché proprio l'Olanda, scusami, fra tutti i paesi allora a questo punto? Allora, per varie ragioni. In primo luogo, le università in Olanda sono molto buone e costano poco. In Olanda le università, adesso nel tempo quando ho studiato io, che era nel 2015-2016, le università costavano intorno ai 1900 euro fissi e quindi già era una spesa minore. Sì, abbordabile. Quindi, tornando rispetto a… Annuali 1900? Sì, 1900 annuali, poi le fa errate, sono intorno ai 300 euro al mese. La scelta in verità è nata da un desiderio non tanto di buttarsi da un'altra parte, ma di fuggire da un posto. Ok, ti sentivi molto stretto? Ma sì, sicuramente stretto, poi ci sono delle cose che puoi cambiare della tua vita, però non sai quello che trovi. E quando la gente mi dice com'è stato andartene via il primo anno, io dico sempre volevo andarmene, io non ce la facevo più a star lì. Era un ambiente nuovo, ho cambiato cinque case, ero andato a vivere in una città lontanissima perché costava decisamente meno, lavoravo in un ristorante. E riuscivi comunque a studiare? Sì, ho fatica il primo anno, infatti poi da lì ho deciso di cambiare, andare in una cittadina molto più piccola perché inizialmente io mi ero trasferito ad Amsterdam, non faceva per me, vivevo a Diemen tra l'altro, che è una cittadina a 20 chilometri. E poi da lì invece la scelta e l'organizzazione è arrivata dopo perché a quel punto della mia vita ho detto, ok, dove voglio andare, cosa voglio fare e sono finito a Maastricht. Ok. Dove poi ho trovato un corso universitario che mi piaceva e da lì le cose sono cambiate completamente. Probabilmente l'hai già detto, ma avevi forse 17 anni se mi sembra di capire. Avevo appena fatto 18. Appena fatto 18, ok. Quindi ai 18 anni già non ti stava molto bene il contesto italiano, giusto? Se così vogliamo metterla. Non so se dire poi il contesto italiano oppure quello che circonda l'Italia in generale. Ok. In particolar modo forse in quel momento non era il contesto italiano in sé. Ok. Ma il mio modo di essere, io scappavo più da me stesso, non da un contesto italiano. Ah, ok, ok, capisco. Sì, molte persone insomma mi raccontano che è più interiore il problema che magari per ciò che ti circonda. Però non lo sapevo, cioè ora lo posso dire col seno di poi. Sì, lo capisci dopo, sì. Quando sono andato io ho detto, ok, perché sono andato via? Cioè qual è la cosa che mi ha fatto dire? Perché al momento dici perché lo voglio fare? E non sei troppo introspettivo, a 18 anni l'unica roba che mi interessava in quel momento era altro. Però ti ha fatto crescere comunque il viaggio. Cioè nel senso anche il fatto che tu dopo anni abbia detto forse il problema alla fine era dentro di me, scappavo da me stesso. È perfetto così, cioè non penso che sia da rimpiangere, quindi è perfetto. No, assolutamente. Un'altra cosa che volevo dirti è, hai accennato Amsterdam, hai detto inizialmente sono andato ad Amsterdam se non sbaglio. Sì. Non mi ci sono trovato molto bene, ho capito che non faceva per me. E questo, diciamo se vuoi dircelo, perché? Cosa è successo lì ad Amsterdam? Ma allora, è una città grande. Sì, vivevo lontano, non avevo mezza lira per potermi permettere di vivere in centro, quindi dal momento che vivi lontano fai più fatica a conoscere persone. Quindi non mi va di accusare Amsterdam in quanto Amsterdam, ma mi sento più di accusare, se posso dire la parola accusare, ma dare la colpa alle circostanze più che alla città di Amsterdam. Perché io sono dell'idea che se sei inserito in un determinato contesto con le persone con la quale ti trovi bene, puoi trovarti malissimo nella città più bella del mondo secondo i tuoi canoni e puoi trovarti benissimo in un paesino di 20 persone. Ok, ok, sì sì sì, ma sono completamente d'accordo. E un'altra cosa su cui volevo riflettere con te è, hai preso una decisione che a quanto pare è stata proprio, insomma, rapida, ok, non mi va bene, va bene, vado. E in tutto questo, com'è stato possibile organizzare tutto nel senso che in così poco tempo non hai avuto paura di, ok, vado lì ma magari ci rimango, nel senso che non ho soldi per pagarmi niente, non lo so, non so nemmeno dove stare. Sì, secondo me è un po' più interessante anche capire l'aspetto economico che c'è stato dietro. Cioè tu avevi già dei soldi da parte che ti hanno fatto dire, ok, vado perché tanto, mal che vada il primo mese ce la faccio, oppure è stato proprio così? Cioè, rapido? Ma inizialmente sono riuscito a partire anche semplicemente pagandomi il volo e anche il primo e il secondo mese d'affitto grazie ai soldi che mi avevano dato i miei genitori. Ah, ok, quindi ti hanno aiutato i tuoi genitori, ok. Poi mi sono trovato questo lavoro, lavoravo normalmente in un ristorante, pagavano molto bene, mi ricordo la mia prima paga che riuscivo a coprire l'affitto e a tenermi qualcosa, perché lavorando tot sere magari ti davano 1200 euro, vivevo veramente lontano, mi ricordo che era per me la… Poi cambierai tantissime cose di cosa facevo prima, non sapevo niente proprio a livello di spese, ho speso tantissimi soldi inutilmente. Certo, vabbè, insomma, cosa ci vuoi fare? Però l'idea era, mal che vada, ho la fortuna di avere un posto a casa in Italia, torno. Sì, 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 sì. Quindi è stata più facile. Avevi comunque questa ancora, insomma, questa ancora di salvezza, questo posto fisso, vabbè, vado, mi butto, tanto so che ho le spalle coperte in generale dei miei genitori, posso tornare, cioè non è che mi… Cioè posso tornare a casa, esattamente, ma al che vada torno a casa e mi metto a lavorare da un'altra parte. Mi è piaciuta molto questa parte, insomma, perché mi aspettavo più un macio riflettuto due mesi, eccetera, invece no, è stato istintivo. Ma tutte le scelte che poi sono seguito sono sempre state istintive, cioè il pensiero arriva dopo. Wow, ma pensi che se non ci fossero stati i tuoi genitori a supportarti economicamente, ma anche moralmente, saresti partito? Se non ci fossero stati i miei genitori a supportarmi economicamente, sarei partito. Se avessi avuto via soldi per star via almeno due o tre mesi, sì, almeno quelli. Perché alla fine la cosa non era andare a visitare una città, ma era staccare. Quindi giustamente era… È difficile adesso immaginarsi come sarebbe stata la mia vita in un modo diverso. Conoscendomi, sarei partito comunque se avessi avuto la possibilità di star via per x mesi, tre mesi, in modo tale da quei tre mesi di cercare di costruire qualcosa con un piano, sostanzialmente. Certo. Comunque sì, la risposta è sì. Anche arrivato lì, tu avevi già in mente comunque di studiare in un'università olandese, oppure è venuto dopo quel pensiero? Dico, ok, sono qui, però devo anche studiare. Cioè, com'è andata? Insomma, sei partito e non ci hai pensato al lato studi. No, sapevo dell'Olanda per quanto riguarda l'università, perché sapevo che erano buone università. Ok, sì. Poi avevo fatto application per più università. Ah, quindi le avevi… Ok. Quindi nel senso, ce n'erano diverse. Ok. Erano tutte in Olanda, poi nord, sud, est, ovest, poco cambio. L'Olanda in treno, te la giri in quattro ore, sei da nord. Wow. Da Dimen, più alto della verità, dal nord. Credevo di più. Sì, cinque, intendo dire cinque, sei da. No, no, non lo so, non lo so proprio. No, sono 16 milioni di abitanti, quindi… E poi è lo Stato europeo più densamente abitato. Ok. Non mi ricordo… Ma guarda che… pensavo fosse l'Italia. No, no, l'Italia su tutte le montagne, eccetera. Allora, no, al mondo è il Bangladesh e in Europa è l'Olanda, seguita tra l'altro, mi sembra, dal Belgio, perché sono piatti, cioè paesi bassi, quindi tantissime case. Le ficchie ovunque. No, insomma, assolutamente interessante. Quindi, insomma, per questo capitolo organizzazione abbiamo capito, insomma, scelta abbastanza impulsiva, ma comunque ragionata nel senso, vabbè, mi butto ragazzi, poi in caso torno. Ci sono stati per caso degli imprevisti in tutto questo, nel senso, arrivo lì, tac, scopro che serviva un documento, serviva un visto. Non lo so, in realtà, essendo in Unione Europea, dubito, però, magari, insomma, hai scoperto qualcosa? No, io ero ignorantissimo, ma ignorante nel senso che ignoravo tutto, tutto come funzionava qualsiasi genere di cosa. In Olanda c'è da fare un BSN number, che è una sorta di codice fiscale. Ah, ok. Ma non è stata quella la parte difficile, cioè per me la parte più difficile è stata essere catapultato in una realtà nuova da solo. Sì. E quindi anche usi i costumi, un ragazzo che esce da una scuola di Bergamo, molto provinciale, anche come mentalità. Quindi la cosa più difficile è stata mettersi sulla stessa lunghezza d'onda con le persone che incontravo, perché ovviamente non volevano essere amiche con me, ma perché erano sfigato. Sfigato non in senso dispregiativo. Sì, sì. Ma che non sapevo come il mondo girasse sotto qualsiasi punto di vista. Quindi il primo anno è stato l'anno più difficile, probabilmente, della mia vita sotto quel punto di vista. E superato quello, poi ho detto, ok, adesso ho capito, sono sulla stessa lunghezza d'onda, da adesso parto. Il primo anno non è stato partire, è stato raggiungere. Certo, certo, certo. E la tua mente era impegnata a risolvere, devo cavarmela. Poi sono arrivate tutte le cose restanti, ok, ma forse cosa bisognava farci? Valorialmente parlando, anche a livello organizzativo, ma soprattutto a livello di valori, a livello di modo di ragionare. Ok. E in tutto questo avevi già degli amici, magari stretti o meno, che ti dicevano vai Simo ci sta, o mi dicevo che cazzo stai facendo, non lo so, ti hanno frenato. A dire la verità no, ero stato il primo ad andarmene, poi tanti dei miei amici sono partiti anche loro, mi chiedevano come era l'esperienza, perché appunto era il 2015, quindi adesso paradossalmente vedo molti più ragazzi, lo vedo nell'università dove poi ne parleremo, ogni anno c'erano sempre più italiani, ogni anno ce n'erano sempre di più, perché passa parola, soprattutto diventa un amico, un amico. Io lì ero partito da solo e era giusto che io soffressi da solo in quel momento. Va bene, è giusto, insomma, è giusto per te ovviamente. Sì, no, giusto per me che soffressi da solo. No, no, insomma, è molto interessante. Quindi se dovessi dare un voto per ciò che ti ricordi, insomma, per tutto ciò che ci hai detto, da uno a quattro, perché ovviamente siamo su quattro quarti, i voti partono da uno e arrivano a quattro, che cosa gli daresti? Il minimo è uno. Sì. Ok. Uno. Uno. Ci sta. Ok, immaginavo, immaginavo. Ma in generale, in tutta la mia vita, lo vedremo poi, l'organizzazione è vado lì, vedo. Sì. Quindi ho organizzato zero, uno, poi però magari diventa un quattro. Sì, giusto. Quindi si è lasciato trasportare del flusso. Quindi siamo al te, diciottenne, a Terry, in Olanda. Cos'è che rapisce la tua attenzione prima di tutto? Appena arrivato, primo giorno, insomma. Se ti ricordi, eh. No, mi ricordo, io mi aspettavo, quando ti dicevo un cambio di punto di vista, io prima di partire mi immaginavo dicendo, ah, adesso prendo la mia casa, qua mi metto la panca per fare i pesi, qua adesso mi metto… Tutto, invece ha programmato tutto, praticamente, in un giorno. Tutto, dicendo, una settimana prima avevo il carrello di Amazon, era pieno di roba, diecimila euro, mai speso, sono ancora il carrello del 2018, queste cose. Farlo ci sta, poi alla fine puoi anche comprare. Però sai, era il sogno, in quel momento per me era, vado, faccio la mia vita, la mia casa, la mia camera. Mi sono ritrovato per tre mesi a dormire su un divano con una valigia e sostanzialmente non avevo un armadio, dovevo aprire tutto il giorno e ero letteralmente in giro con una valigia. Ma perché sei andato in una specie di bed and breakfast? Io sono andato in un bed and breakfast dicendo, eh vabbè dai, tipo una settimana trovo casa, 600 euro al mese, li posso mettere via, ho una casa tutta mia. Avevo un'idea, cioè che a dirla adesso una persona ti riede in faccia, però quando i 18 anni non sai quanto valgono le cose, non sai com'è Amsterdam, ma ti dici sì è un po' più cara, magari 700 rispetto all'Italia, erano anche quei tempi, quindi sì, 100 mi sembravano tanti. Appena arrivato lì mi sono detto, hai sbagliato tutto, cioè io ho dormito per tre mesi con un greco condividendo un divano, un greco che poi non mi ricordo il nome, ma io lo chiamavo Mister Athena, che tutte le sere ci fumavamo, si fumava, si fumava. Il tocco di fumo. Il tocco, il famoso cannone sul terrazzo, ma eravamo distanti anche lì 20 minuti dalla città, 25, e questa stanza per me adesso è, mi hanno anche cacciato da quella stanza perché è una cosa divertente, il greco se n'è andato via perché ha trovato un appartamento, poi lui faceva l'architetto. Il padrone di casa era di Aruba, non so se Aruba comunque è una ex colonia, ma dire la verità è ancora territorio olandese, quindi portolandese. Se n'è tornato da Aruba e mi fa, sei troppo giovane, non mi fido di lasciarti qua da casa. Non mi fido. Aveva ragione, cioè non sapevo che cazzo volesse dire avere una casa, quindi mi fa, vattene. Vattene e mi fa, però conosco un amico che abita a Dimen e quindi mi ha mandato a 60.000 chilometri di distanza a Dimen con il suo amico di Aruba. Sì, quindi diciamo la prima cosa che colpisce, attira la tua attenzione è, ho sbagliato, ho fatto un errore, qua è molto più caro di quello che immaginassi. Ma non caro, ma proprio mi sono reso conto e ho detto, mi non avevo capito un cazzo, io mi immaginavo una casa e mi ho detto, c'ho tutti i programmi che mi ero fatto in quella settimana. Ti è crollato il castello. Mi è crollato il castello e ho detto, vabbè, si costruisce da meno 5. Ok, ok. Ti sei fatto il reality check alla fine. Sì, esatto, esattamente, nel giro di due ore. Sì, comunque è comprensibile che questa sia stata una delle prime cose che hai provato perché effettivamente quando vai a fare un viaggio tu hai un'aspettativa, vai lì, dici ok, belli colori, vedo sta cosa, tu invece sei andato lì per vivere, quindi ci sta che questa sia una delle prime cose che hai subito, insomma. Beh, diciamo, però ad oggi ti senti grato di aver dormito per tre mesi su un divano? Allora, non mi piace romanticizzare le cose. Cioè, a volte si sente, sì, hanno formato la persona che mi ha fatto cagare. Cioè, onestamente è stata una delle... Certo. Cioè, poi col senno di poi, ovviamente, te la posso stare qua a romanticizzare dicendo sì, quell'esperienza mi ha formato. E magari in parte è vera. Sì. Però onestamente io ho passato un anno della mia vita ed era una merda. E quando dico una merda intendo che faceva veramente schifo sotto ogni punto di vista. Non avevo un amico. Beh, ma anche il fatto che ci avessi quella valigia lì, proprio dire... Tre valigie, tre valigie di cui un borossone sopra. perché ero venuto con miliardi di cose quando non servivano, perché non capivo assolutamente nulla. E i miei genitori vengono da una realtà diversa, di un paese, quindi non sapevano neanche loro indirizzarmi. Non hanno mai fatto queste esperienze. Ma tu all'epoca lo sapevano? No, sì. Cioè, sapevano che... Cioè, sapevano che tu... Non l'hai preso così male all'inizio. No, no, non penso neanche... Non c'è bisogno. Cioè, nel senso, me la son fatta sulla mia pelle. Ok. Avevano i loro problemi, sicuramente. Quindi, poi, sono una persona che i miei problemi li tiene da me. Non sanno niente di tutte queste storie. Anzi, se vedono la puntata, sto bene. Tutto opposto, raga. Non ce l'abbiamo sotto stagio. No, però romanticizzare la questione dicendo sì, quei tre mesi, quell'anno mi hanno formato... Ma anche no, anche no. Ma sì, la mia domanda puoi tranquillamente rispondere di no. Assolutamente. Per te, se tornassi indietro, rifaresti in tutt'altro modo? Assolutamente sì. Esatto. Anche se dall'esterno capisco che possa essere presa, e magari lo è realmente, come un... Ti hanno fatto conoscere delle robe che tu non sapevi. Questo è vero, c'è un dato di fatto. Certo. Beh, è interessante. All'epoca sei riuscito a trovare quello che cercavi alla fine? Perché tu te ne sei andato via per un motivo? Non stavo cercando niente, stavo scappando. Quindi no, non l'ho trovato quello che cercavo. Se non sai cosa cercare, cosa trovi? Niente. Non stavo veramente cercando nulla. Quello che posso dire è che l'unica roba positiva di quell'anno è che mi ha fatto rendere conto che scappare in quel momento era la cosa giusta. Certo. Nonostante sia stato di merda, la rifarei perché ero andato via da quella cosa. E poi da lì mi sono detto, ok, lasciamo andare l'università, lasciamo andare tutto perché veramente non capivo niente. cerchiamo un corso che mi piaccia perché io non sapevo realmente cosa mi piacesse. E poi ho trovato appunto questo corso a Maastricht e mi ricordo che la coinquilina del tempo mi aveva aiutato a scrivere una lettera motivazionale. Io non parlavo mezza parola d'inglese quando mi sono trasferito. Ah, non... Non parlavo mezza parola. Ma come ho fatto a fare... Cioè ti hanno fatto l'interview e tu te l'eri... Cioè avevi studiato un po'... No, 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 non serviva. Inizialmente non serviva. Poi quando ero lì... Cioè te l'hanno fatta in italiano l'interview? No, no, non c'era l'intervista. Cioè in Olanda, per la maggior parte dell'università, tu devi fare un'application online. Ok. E poi ti dicono... Perché il concetto è questo, che danno la possibilità a tutti di studiare... Selezioni naturali. Selezionano il primo anno. Tu entro il primo anno devi fare 42 crediti. Sì. Se tu non raggiungi questi 42 crediti... Non è caso. Non puoi più fare quell'università per sei anni, però puoi cambiare facoltà. Ok. Qua si aprono... Cioè ci sono visioni diverse qua effettivamente. Esatto, se ne parla in Italia anche di medicina. Ci sono visioni diverse effettivamente. Cioè è giusto vietare questa persona per sei anni di ripresentarsi nella stessa facoltà. Non lo so. C'è anche una visione. Ci sono delle eccezioni. Cioè tipo se la persona ha avuto dei problemi in un certificato medico. Se arrivi a 40 crediti al posto che 42 magari chiudono un occhio e devi andare dallo study advisor. Ma pensi che in realtà anche a livello psicologico questo influisca molto nel senso... Ti procura molto stress, vero? Cioè quando poi ho insegnato e vedevi i miei studenti che venivano dicendo Ho 36 crediti, devo passare l'anno, è l'ultimo esame. Eh, mamma mia che ansia. Allo stesso tempo io sono a favore di questa cosa. Adesso ti dico il perché. Cioè sono d'accordo con Salvini. Sì. Un orologio rotto, segnalora esatta, anche lui, giusto? Sì, sì, sì. Sul fatto di dire di ammettere le persone senza il test d'ingresso e poi almeno sull'ammetterle in determinate facoltà senza il test d'ingresso che è molto generico a volte. Qual è il problema? Che in Italia non abbiamo le infrastrutture per permetterci così tanti studenti. Quindi sono d'accordo all'idea generale che tutti possano permettersi di studiare senza un test. Io sono d'accordissimo anche su questo in realtà. Non sapevo di cosa stessi per parlare però anche io sono d'accordo. No test, se è questo. E poi la selezione arriva da sé. È naturale. Quindi forza Salvini. Forza Salvini! No, no. Quindi è per dire che ci sono... Secondo me poi c'è anche un modo di portare avanti queste cose che è sbagliato. Perché se tu offri un servizio devi offrire anche le infrastrutture per poter permettere di avere tutti gli studenti. Perché sennò la qualità si abbassa. Ci sono 5.000 persone in una stanza. Ragioni di sicurezza. Quindi è un'idea molto, secondo me, anche populista sotto un certo punto di vista. Un'ideale. È un'ideale poi dal dirlo, farlo un conto e dirlo e poi realizzarlo. Perché onestamente sono al governo. A medicina ci sarebbero 3.000 studenti per classe. Poi non si può fare. Perché l'abbiamo visto che sono al governo e non lo stanno facendo vuol dire che magari non si può neanche fare per altre ragioni. Ovvio, ovvio. Giusto. Ok, torniamo un attimo in careggiata. Abbiamo detto ambientazione, quindi sei arrivato lì, primi mesi, eccetera. Noti anche differenze, diciamo, a livello, non lo so, proprio pratico. Nel senso, vedo che qua ci sono strade diverse, mi sento spaesato, case. Non lo so, pulizia. La pulizia com'era? Cioè, nel senso, non pulizia, pulizia. Nel senso, qua in Italia, in alcuni posti siamo abbastanza sporchi. Lì, come funziona, insomma? Io prima di partire, mi ricorderò sempre questa scena. Mi chiedevo, ma ci saranno i pullman? Eh. E questo fa parte dell'organizzazione che ti dicevo prima. Cioè, per me l'Italia era il centro del mondo. Cioè, da persone andate in un paese in Italia, l'Italia aveva tutto, che funzionasse bene o male, aveva tutto. E poi mi chiedevo, ma chissà, se in Olanda ci sono i pullman. E è arrivato lì? È arrivato lì, c'erano. Ok. E funzionavano decisamente meglio. Hanno un sistema di controllo migliore. Hanno un sistema automatico, nel senso di dire che tu devi entrare, devi far vedere il biglietto all'autista. Sì, sì, sì. Quasi tutti in Europa fanno così. Siamo solo noi in Italia che… Hai una tessera ricaricabile, passano, e quindi lì ho detto, ok, c'è un mondo fuori dall'Italia. Quella è stata forse la prima cosa che mi ha scioccato è stata dire, l'Italia non è il centro del mondo. E paradossalmente ora per me è così. Cioè, non esiste un centro del mondo e sicuramente non è l'Italia. Sì, hai iniziato, cioè nel senso, diciamo, è stato bello, perché sei andato lì così ingenuo, dico, ma in Italia c'è tutto. Poi arrivi lì e dici, cazzo, forse qua funziona anche meglio. Eh, assolutamente. Cioè, nel senso, come ti ha fatto sentire questo? Cioè, il fatto di dire… è come avere, non lo so, un cellulare e pensare che sia il più bello di tutti. Poi vedi il cellulare di un altro e dici, ma forse anche il mio è normale, insomma, è un esempio stupido. Male, male. Ti fa sentire male, un po' tipo, cazzo, io pensavo di essere al centro e invece… Esatto, io pensavo di andare lì e dire spacco tutto, invece mi ha schiacciato. Cioè, pensavo di andare lì e dire adesso qua… Cioè, prendono me, sono italiano, abbiamo tutto, no? Cioè, sono arrivato lì e ho capito che effettivamente non era così, che dovevo sbattermi, che dovevo fare le cose, che dovevo soffrire. Molto bello. E quindi sì, cioè, paradossalmente, partendo poi dalla strada, per me è stato il pullman, i mezzi, no? Cioè, il capire questa roba poi si è riflesso in tutti gli altri settori. Beh, ma secondo te da dove è nata questa roba qua di pensare che l'Italia fosse il centro del mondo? Ma sai, quando tu cresci in un determinato posto, quella è la tua realtà e la conosci, quindi sai gli orari, sai quando passano le cose, sai come funziona il sistema. Quindi non saprei dirti da dove nasce, però avevo conosciuto solo quella realtà. Certo. Avevo laggato un secondo, per qualche ragione. No, 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 non ti preoccupare. Comunque, questo ti ha fatto crescere. Cioè, questa botta qui, questa, sì, non è che ha fatto schifo. No, no, ti fa crescere. Ok, ha fatto schifo perché ti ha fatto sentire male, però questo ti ha fatto crescere. Ti fa cambiare, ti fa cambiare sicuramente, sì, sì, sì. Ma tutte le esperienze che ho fatto ti fanno cambiare, mi hanno fatto cambiare, sì. Ovvio, ovvio. Cioè, il fatto che tu abbia detto prima, per esempio, anche il divano, è stata una merda. Sicuramente avrò avuto, cioè, hai rivalutato magari diversamente qualcos'altro, per dire. Sì, tutto. Però è giusto che tu dica, mi ha fatto cagare, anche se non, cioè, se in realtà non pensi che non ti sia servito niente, è giusto che tu dica, mi fa cagare, basta. Cioè, io ho odiato la persona che ero prima. Cioè, tuttora, per farti un esempio, questa è una roba magari che c'entra poco, ma io sono andato da una persona e le ho chiesto scusa per la persona che ero prima. Wow. Da quando sono cambiato ho chiesto di andare a mangiarci una pizza e ho realmente letto io ti chiedo scusa per quel simo. Quel simo non esiste più ed è un altro simo, questo dopo il secondo anno. Paradossalmente, poi, la cosa più difficile non è stata, cioè, è stato essere cambiato, ma normalizzare il fatto di essere cambiato. Inizialmente io volevo dimostrare di essere cambiato. Anche il fatto di aver chiesto scusa a questa persona, per me ci voleva, in quel momento della vita, era giusto chiedere scusa per come la persona che eri, che non ti piaceva più, ma era chiedere una scusa soprattutto a me stesso. E inizialmente per un anno poi ho dovuto continuare a confermarlo, cioè, quando tornavo devo dimostrare di essere diverso, perché comunque eri ancora legato per i primi due anni. E poi, sostanzialmente, invece c'è stata la fase che è andata avanti dal secondo anno in poi che ero via, che è stata la normalizzazione. Ma tu ti senti una persona orgogliosa? Molto. E quindi è stato ancora più, diciamo, importante questo tuo scusa per ciò che ero. Cioè, nel senso, ed è servito, come dici, soprattutto a te. Sono orgoglioso della persona che sono diventato. Non sono orgoglioso della persona di prima. Prima ero molto meno orgoglioso. Cioè, l'orgoglio se una persona mi fa un torto, sotto quel punto di vista no. No, no, sì, scusami, mi ero espresso male, intendevo in generale. Cioè, sei una persona che ha, diciamo, un'idea di se stesso abbastanza importante o… Sono orgoglioso dell'essere cambiato. Dell'essere cambiato, ok. Quella è una cosa che per me è stata fondamentale e quella è l'obiettivo raggiunto. Cioè, per me l'obiettivo principale era cambiare in quel momento e la persona di prima era cambiarla. Quindi è come se fosse stato raggiunto e poi, boh, orgogliosa, non lo so. E secondo te anche dire a questa persona, scusami e diglielo proprio face to face, c'è nel senso… Vergogna farlo. Ok. Però, cioè, ce l'hai ben chiaro in mente in questo momento, no? Sì, sì. No, no, ma è successo due volte. Cioè, ho dovuto poi… dopo sei mesi ho dovuto rifarlo un'altra volta. No. Ci sei ricascato. Il vecchio lupo perde il pelo ma non il vizio. No, no, no. No, no. Cioè, per confermare quello di prima. Cioè, ho dovuto semplicemente… Ma ti ricordi che ti ho chiesto scusa? Sì, e lui… però, e vedi, questa cosa secondo me è perché magari lui non gli ha dato tante importanti… magari, non lo so, cioè, non lo posso sapere, però magari lui non gli fregava neanche un cazzo che tu gli chiedessi scusa o meno, però tu l'hai fatto per te. Sì. Ed è giusto. Cioè, e tu gli hai detto, cazzo, io ho fatto una cosa per me, però alla fine è giusto così. L'importante è che sia importante per te. Sì, sì, sì. Scusate il gioco di parole. No, no, era una lei, quindi è più facile col gioco di parole che non è lui, però sì. L'importante è che sia servito a te. Sì. Allora, la prima volta è servita a me, la seconda volta era perché era giusto farlo nei confronti di questa persona. Cioè, la prima era più per me, o viceversa, adesso non saprei metterla. Ok, 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 però sicuramente quando arriviamo a questi punti in cui… scusa per ciò che… Ricordatevi, se state ascoltando queste scuse, che serve più anche a quella persona, no? Per dare un taglio, insomma, sancire un determinato momento. Da questo momento in poi mi impegno ad essere qualcos'altro. Che bisogno, tra l'altro. Sì, penso che la prima volta che lo fai, lo fai, diciamo, in maniera un po' egoistica, perché vuoi nutrire una parte di te e confermare qualcosa per te stesso. Quindi nel caso succeda, dare il feedback, secondo me, in quei casi lì la cosa è migliore. Sì. Perché quello di fronte a te non te lo sta chiedendo per te stesso. Cioè, non ti sta dicendo scusa anche per te, però soprattutto per dire… No, secondo me inizialmente no, non lo fa proprio per te, lo fa per se stesso. Poi dopo, quando inizia ad abbracciare un po' il cambiamento e dire, ok, io sono normalmente così, probabilmente dopo non servono nemmeno le scuse, perché tu sai che non sei più quella persona. O meglio, non è che non sei più quella persona, ma sei cambiato, sei cresciuto. A me è successo più così. La prima forse… sì, c'era anche una parte per l'altra persona, ma più per me. Sì. La seconda invece era… erano sentite tutte e due. La prima è forse stata la rompere la barriera. La prima devo farlo perché io devo essere una persona diversa. Io ero così, tipo… Sì, sì. Tremavo come non so cosa. Spezziamo un attimino questa atmosfera molto pesante. Domandina un po' stupida se vuoi. Ma se appena arrivato in Olanda fossi stato cieco, ce l'avresti fatta? Sarebbe stato tutto fattibile? L'Olanda è organizzata meglio per le persone cieche, sotto tanti punti di vista, ma anche la morfologia del paese. Cioè non è assai, scendi, a piatta, pesi bassi, piatto. Sì, sì, sì. Anche le strutture ci sono per le persone, se sono anziane, se sono cieche. L'impatto probabilmente mi avrebbe scioccato molto di più. E poi dipende, dal momento che sono cieco magari sviluppo di più determinati sensi, quindi avrei sviluppato forse di più il gusto e quindi probabilmente avrebbe avuto un impatto maggiore. Sì, sì, di solito soprattutto l'udito. Il cibo olandese è inutile dirlo, fa cagare. Capito l'ambientazione da 1 a 4, che cosa gli possiamo dare, insomma? Per come mi sono ambientato, poi nell'arco degli anni 4. 4, ok, 4 su 4. Ok, se vuoi parliamo neanche dopo. Cos'è cambiato nel dopo? Si è cambiato tu e quindi sei riuscito a, diciamo, farti malleare, adattarti al contesto? Allora, io parto sempre dalla mia filosofia di vita. Ne ho due, principalmente. Questa è una delle due, che è che le persone, tutte le persone possono fiorire. Fiorire è un termine che ho usato, vabbè, da Marta Nussbaum e Amartya Sen. E sostanzialmente loro dicono che in un determinato ambiente, qualsiasi persona, poi anche animale, possono fiorire. Ok. Quindi quando una persona non si trova bene in un determinato contesto, non vuol dire che quella persona sia un coglione, un deficiente, via dicendo. Sì, non è ancora fiorito. Ma non può fiorire, cioè non è il terreno fertile per lui. Sì, sì. Io in quel caso, nonostante abbia sofferto, che metaforicamente può essere visto come aver lavorato, quello che è la terra e via dicendo, ho creato un terreno e ho trovato le condizioni per far fiorire. E quindi per quello dico ambientato estremamente bene perché quello era l'ambiente adatto per me per fiorire. Ad esempio, avevo, questo qua poi dal secondo anno in poi, avevo trovato un corso che mi piaceva, prima di tutto. Avevo trovato una casa dove io non sono per niente egoista, ma sono estremamente individualista. Devo lavorare da me, nella stanza e mi distraggo facilmente, quindi per otto ore devo lavorare, fare i miei schemi e ho avuto quella possibilità. E quindi sono fiorito. Ok, ok, ok. Molto, molto bene. Quattro su quattro, ragazzi. Adesso, capitolo un po' particolare perché cerchiamo appunto di coinvolgere i sensi, ma non, insomma, metaforicamente, mettiamola così. Devo chiudere gli occhi? No. No. No, se vuoi sì. Ascolta questa domanda. Facciamo finta che tu sia cieco. Esatto, esatto. Facciamo finta che, sì, esatto. Allora, praticamente, tu ripensi all'Olanda, no? Ripensando all'Olanda puoi, per esempio, immaginare nella tua testa dei colori, ok? Se io ti dovessi dire quali sono i tre colori che pensi quando pensi all'Olanda, e ti spiego un attimo, potrebbero essere anche il giallo perché c'erano un sacco di girasoli per dire, nel senso, mi ha stupito tantissimo questa cosa, quindi colori che ti suscitano qualcosa. Il primo è il grigio. Grigio. In Olanda è grigio, in Olanda piove, piove e il sole lo vedi raramente. Uno dei consigli che ti danno quando ti trasferisci è di prendere la vitamina D. Classico. Perché ovviamente non c'è. Quindi il colore che mi viene in mente è il grigio, che è un colore che trovo veramente odioso. Ma poi i due colori che poi mi vengono in mente sono l'arancio e il blu, che sono i colori dell'università. Cioè per me l'Olanda significa università. Ok. Lo è sempre significato ed è significato per tre anni, che sono stati i tre anni più belli probabilmente della mia vita, e i tre anni, a distanza poi di due anni, ma i tre anni dopo, dove poi sono tornato per insegnare, che non sono stati così belli, ma perché? Perché significavano ancora università e io stavo uscendo da quell'ambiente. Non negativo, perché per carità c'era le sue cose, poi c'era il covid, era una situazione diversa, però sono i colori che mi vengono in mente e sono due positivi e uno negativo, ma che con le determinate persone era anche bello ritrovarsi in casa e io ho passato il primo anno di università in casa ed è stato quello l'anno forse più bello della mia vita ad oggi. Nonostante fosse in casa. E una cosa, sei una persona che si fa condizionare parecchio dall'ambiente, nel senso che, esempio mio personale, quando ci sono giornate particolarmente soleggiate, io penso di avere più energie, penso di essere più produttivo. È una cosa che non dovrebbe accadere nella mia mente, ma accade. Cioè quindi se sono meteoropatico? Sì. Sì, io penso che in fondo tutti siano un pochino meteoropatici nella vita, cioè chi più chi meno, ma il clima influenza. Però sono più, non esiste come termine, o se esiste non so il termine giusto, personopatico. Cioè mi influenzano molto le persone che ho di piano. Che ti circondano. Cioè se sono persone positive, sono positivo anche se piove. Se sono negative no, quindi sì, meteoropatico, se sono da solo sicuramente. Anzi paradossalmente a volte quando c'è il sole vado più in ansia, perché devo uscire. Addirittura? Vado in fomo, cioè vado in fomo e dire devo uscire, c'è il sole, non posso stare in casa. Ah hai ragione, hai ragione, è vero, è vero. Cavolo, anch'io quando lavori e sai che non puoi uscire c'è il sole e dici oddio, oddio cosa sto perdendo. Poi soprattutto magari in Olanda perché è raro e quindi quando c'è dici no. No raga, non posso perdere. Ma in generale, oppure tipo se c'è il sole di... Io a volte soffro di una fomo estrema. Quindi a volte il venerdì o il sabato, che sono i giorni secondo la quale nei film americani uno deve uscire, party hard, no? Una roba del genere. Se piove dico, che bello, non devo, piove, fa freddo. Posso stare a casa, hai la scusa, hai la scusa. Se c'è il sole dico no, che vita di merda, sto invecchiando, sto per andare a morire. Ti fa riflettere su proprio l'esistenza, tu in quanto umano. Bellissimo. Ok, coinvolgiamo, diciamo, sempre la vista. Questa volta però sotto una... in un modo differente. Se adesso dovessi chiudere gli occhi e dovessi pensare a tre forme, o anche meno se vuoi, quali tre forme ti verrebbero in mente pensando l'Olanda? Allora, sicuramente mi viene in mente il tavolo rettangolare che avevo in casa perché ci avevo messo una rete e giocavamo a ping pong su questo tavolo. Quindi è il rettangolo di questo tavolo che ci giocavamo. L'altra forma che mi viene in mente probabilmente è la baguetta e la zucchina. C'è la forma di una baguetta e di una zucchina. Ok, quindi è una specie di ovale molto allungata. Esatto, una forma fallica sostanzialmente. Un fallo. Perché la forma di una zucchina e la forma di una baguetta? Perché quando sei in università sei povero come la fame. Quindi baguetta e zucchina. Io mi ricordo che in un mese ho vissuto solamente di baguette e hummus, poi arrivo alla zucchina, di baguette e hummus perché avevo perso il volo per andare a New York. Perché avevo fatto casino all'aeroporto, ero tornato dal capodanno, quindi prima ero a Porto, vabbè, mi sono perso nell'aeroporto di Madrid. E quindi per quel mese lì mi ricordo che avevo tipo 50 euro per un mese intero. E l'unico modo era la baguetta e l'hummus, ma... 50 euro per un mese intero in Olanda. Mi è capitato la baguetta che costava un euro, l'hummus bastava per pranzo e cena, era tre euro, quindi era colazione, pranzo, cena... Hummus e baguetta. E poi vabbè, casa mia è sempre stata la casa del popolo. Non la chiudevo mai, a parte che non è che avessi chissà che cosa da rubare, ma non la chiudevo mai. La gente poteva entrare, lo sapevano i miei amici tranquillamente che si entrava, c'era il cancello quello sotto, però poi l'interno non veniva mai chiuso. E poi la sera ci ritrovavamo tutte le sere a casa mia. Ed è lì sostanzialmente che è successo il tutto. Non l'anno prima, ma lì è da dove poi io sono fiorito, costruito, e eravamo sempre la sera tutti e cinque a mangiare, c'era chi portava sempre sta cazzo di zucchine, che mangiavamo zucchine tutte le sere, no? E basta queste zucchine, porca troia. L'amico con la zucchina. L'amica con la zucchina. Il famoso amico con la zucchina. Che hai detto così sembra strano. L'amica con la zucchina. Beh, almeno portavano da mangiare. Sì, la zucchina, poi comunque… A me stai simpatica, però magari non portare sempre zucchine. Sì, no, c'era la persona che portava sempre il vino. C'era il vino sempre lì. Allora è giusto così, quella portava le zucchine, tutte le volte quello portava sempre il vino, lei porta sempre le zucchine. È giusto. Non è che cambiava, diciamo, tipologia di vino, sempre lo stesso. Era il Chianti Classico. Mi ricordo la casa, no, non me la ricordo, fa niente. Chianti Classico, sostanzialmente, era quasi sempre quella. Ok, ok. Quindi la forma che dai all'Olanda è quella della zucchina. Del… No, ne manca una. Esatto, te lo stavo proprio per dire. Manca una forma. Se vuoi, se non ti viene in mente… Sono perso la prima, qual era, scusate? La ruota, probabilmente, per la bicicletta. La ruota, ah, cavolo! Genio! Sì, ha senso. Insomma, i cerchi. I cerchi. Cioè… Pieno di bici. Mi sto sul cazzo a me le bici. No! Io sono sempre andato a piedi, sono un gran camminatore. Ok, è comprensibile. Però, scusa, non pensi che sia molto meglio quello che fanno loro, cioè muoversi sempre in bici piuttosto che sempre in macchina? Ha voglia, no, ma macchina… Cioè, viva lei, mai penserei di comprarmi una macchina. È studiata anche in un determinato modo. È studiata proprio per questo… Cioè, io almeno sono stato solo ad Amsterdam, per pochissimo a Rotterdam, però… Cioè, nel senso… No, no, solo bici e mezzi. Ma il bello della bici, dell'Olanda in generale, è che tu a piedi o in bici o con i mezzi ti vai ovunque. Tanto è piatto, come dicevi. Sono anche fortunato per quello, quindi non mi va di criticare l'Italia. Coinvolgiamo un altro senso, coinvolgiamo l'olfatto. Tu pensi all'Olanda e ti viene in mente l'odore di… Erba. È facile, raga. È facile, raga, è abbastanza semplice. Allora, sì, nello zaino… Ecco, attenzione. Abbiamo un esempio. Allora, c'è il tocco? È legale di CBD quello che… Gianmarco tocco. Legale, legale, legale. Allora, no, ti spiego, non è l'unico, ho il senso che mi viene in mente, dire la verità. Sicuramente aria pulita, una roba che noto tantissimo quando torno in Italia, è l'aria pesante vivendo al nord, la senso. In Olanda è ventilato, non ci sono montagne, l'aria è pulita. Ma Simo, sì, ma è stato in Irlanda? Sì. Senti la stessa qualità dell'aria? Perché io la sentivo uguale l'aria, forse è anche meglio in Irlanda. No, io la sì. Tra Irlanda e Olanda. Irlanda e Olanda, sì, sì, sì. No, questo non mi sono messo a fare gli assaggi dalle due aree, cioè ero in vacanza. Gli assaggi dalle aree. Non è come un poccetto di aria. Hai collezionato nei barattolini come faceva il tipo… No, no, no. Ma poi comunque maggiormente sia difficile confrontare un'aria pulita con quella dell'Olanda, con quella dell'Irlanda, che sono entrambe molto buone. Sì, sì. Sono tutte più facili confrontare quelle dell'Italia. Infatti, hai detto, mi sembravano identiche. Forse leggermente l'aria dell'Irlanda. C'è una cosa che noto nell'aria dell'Irlanda, che mi viene in mente, che essendoci tanti campi, tagliano veramente tanto l'erba, quindi mi viene in mente l'odore di erba appena tagliata. Mentre invece in Olanda è un odore che… sai quegli odori che è difficile descriverli, che stanno di casa per me quando arrivo. C'è quell'odore particolare che non è l'erba ad essere una battuta, ma l'odore di casa, che io reputo ancora quella casa, per me Maastricht, dove sono stato sei anni a Maastricht, un anno da Amsterdam, quella è casa. Maastricht, ok. Quindi mi verrebbe addirittura l'odore di casa. Ultimo senso, vogliamo coinvolgere l'udito. Quando pensi in Olanda, che suoni ti vengono in mente? Possono essere anche suoni più disparati, tipo di uno zaino che cade, non lo so, del vento che sposta le foglie, qualsiasi suono. Allora, mi vengono in mente il suono delle sirene, ma perché mi ha fatto spaventare veramente tante volte. Perché in Olanda hanno un sistema d'allarme che fanno partire ogni primo lunedì del mese a mezzogiorno. Oddio! In caso di attacco nucleare, in caso di guerra, in caso di mobilizzazione. E quindi sostanzialmente mi vengono in mente le sirene che a mezzogiorno del primo lunedì del mese suonano e io ogni volta… Cioè, non ti ricordi, sei lì che vai avanti, ti caghi addosso e dici che cazzo sta succedendo. Mamma sì! Ci sono andato, ci sono andato proprio in quel periodo, mi sono cagato. Non lo sapevo. Ci sono andato con la mia ragazza, a un certo punto suonano stile e mi hanno detto, oh, cazzo è il terremoto. Dico che mi andiamo dal tipo della reception e gli ho detto, no no tranquillo, è il testo dell'allarme. Poi a casa mia è vicino a una delle sirene. Oddio! Le sentivi? Questo è il primo e poi il secondo è il salutare degli autisti. È una roba che all'estero si fa tanto, ogni volta che scendi dire oi 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 oi, cioè tipo una roba del genere, oi oi se sei al sud, oi più al nord dell'Olanda è solo uno, al sud sono due. Sì. o solo nelle parole, accento e parole oppure solo parole? Hai detto oi 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 oi? Io sono le uniche due parole che sono dell'olandese. Ah, ok. Bene, bene, posso, posso, posso. L'inglese o te lo dite, è vero? Capisco benissimo. Ok, quindi abbiamo concluso il capitolo dei sensi. Come hai detto prima, Simo, stiamo ad entrarci in un altro capitolo, ok? Quindi quello degli abitanti, della gente. Allora, come hai detto prima, per te una cosa fondamentale è circondarsi di persone che ti facciano sentire bene e siano felici o magari anche tristi se vuoi essere triste, che ne so. Comunque, immagino che per te questo nella tua vita abbia un peso molto importante, quindi il peso delle persone, no? E quindi volevo semplicemente chiederti, che differenze culturali trovi fra gli abitanti dell'Olanda se hai avuto modo di passare molto tempo con loro e gli italiani? Cioè nel senso, cosa può offrirti un olandese che non può offrirti un italiano? E viceversa se vuoi. E se reputi questa una cosa importante nella tua vita. Allora, piccolissima premessa, difficile generalizzare anche perché le persone all'estero che ho conosciuto non sono per forza di cose gli olandesi. Ok. E le persone italiane che conosco invece sono molte di più, per un fattore di lingua, per amici di genitori, modi di fare. Allora, in linea di massima una cosa da un punto di vista universitario che posso dire è che ho notato molta meno gerarchia nei ruoli. Cioè se una persona ha quel ruolo, che sia uomo, che sia donna, questa è una cosa che a me ha colpito venendo da un paese come l'Italia. Certo. E anche il politically correct che tanto viene criticato e giustamente magari a volte si dicono alcune cose, dicono ma è vera questa cosa, a me ha aiutato tantissimo a superare tantissimi stereotipi e comunque rimango sempre dell'idea che si possa dire tutto. Vi dicevo prima, non ho mai bloccato una persona, poi ti prendi le conseguenze, non puoi aspettarti che però non ci siano delle conseguenze se tu dici determinate cose a una persona. Certo. Quindi a livello di persone la differenza che ho trovato la rendo un pochino più personale per non rimanere generico. Sì, 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 devi. Non solamente olandesi, ma ci metto in mezzo tutte le persone internazionali che ho trovato che siano dal Belgio, che siano dalla Francia, dall'Europa in generale, principalmente Europa internazionale perché era Maastricht e quindi trattato e via dicendo. È stata l'apertura nel confidare determinate cose e la cosa che più ho imparato è che parlando con alcune persone non era un eh sì però tu dovresti fare questo. Una cosa che l'ho capita posteriore dell'Italia e di quando parlavo con alcune persone era che quando confidavo una cosa che fosse su una ragazza, che fosse su un progetto e via dicendo era secondo me dovresti far questo, secondo me dovresti far questo e ti sei sentito così perché hai fatto questo? E lo facevo anch'io probabilmente, è normale come cosa. La cosa che invece c'è stata dopo è stata il perché vuoi far quello, come ti fa sentire far quello, cioè quindi non io che ti dico, cioè esempio sei geloso, mi dici sono geloso, non sono io che ti dico non dovresti essere geloso perché sta andando a ballare con le sue amiche. Ma mi dici perché? Cos'è la cosa anche stupida che fa sì che tu sia arrabbiato? Perché molto spesso siamo arrabbiati senza saperlo e te la risolvi dicendo eh io sono fatto così o per me è così. C'è sempre analizzare cosa è successo lucidamente in realtà. E per me è stata quella domanda esplorativa più che poi ogni tanto uno può dare la critica dicendo voglio un consiglio, non voglio che tu, io ad esempio non voglio consigli. Quindi tu dici lì le persone magari che hai conosciuto che non sono ripetiamo necessariamente olandesi, in generale sono più aperte nel capire, farti capire cosa effettivamente c'è. Esatto. E non a dire guarda fai così così perché forse l'approccio italiano forse a volte è un po' insomma pragmatico tipo diretto. Cioè io so come si fa. Fai così. Io so come si fa, ti insegno come si fa. È più apertura, cioè più ascoltiamo cosa ha da dire questa persona che è interessante ma magari iniziamo a riflettere insieme su sta cosa. Sì anche perché spesso volentieri le persone quando si lamentano di qualcosa, cioè non è che lo fanno perché vogliono un consiglio da parte tua, semplicemente vogliono semplicemente essere ascoltate. Magari riflettere insieme, magari anche riflettere insieme come diceva Simone. Cioè nel senso, a me ce l'avevo anch'io da piccolo questo difetto che cercavo sempre di spiegare le cose quando qualcuno mi si lamentava o diceva qualcosa, quando in realtà semplicemente tu vuoi semplicemente parlare con qualcuno e qualcuno che ti ascolti e basta. Magari tu sai già cosa devi fare, non vuoi sentirtelo dire, vuoi semplicemente qualcuno che ti dica hai ragione a sentirti così, fai bene. Sì. O magari semplicemente ti faccia parlare. Sì esatto. Richiede anche aprirsi, cioè non richiede solamente l'altra persona che ponga le domande giuste, ma questa cosa aprirsi perché molto spesso ci si arrabbia e non si sa realmente per cosa, si è arrabbiato, magari una cosa personale. Ti faccio un esempio molto facile. Io avevo, quando ero, primo anno che mi ero trasferito, avevo vergogna ad esempio nel farmi vedere con la maglietta maniche corte perché nei miei pregiudizi c'era il sono grasso, sono… Ok, sì. Puoi essere magro, grasso, cioè sovrappeso, anzi la parola giustradaro, sottopeso, poco conta perché se tu sei sottopeso ma ti vedi grasso, sei grasso, no? E quindi magari a volte ti dava fastidio che la tua ragazza e la tua ragazza ti toccassero qui, tu ti irrigidivi senza sapere per cosa, quando invece poi sostanzialmente eri arrabbiato per un tuo problema interno. Quindi poi parlandone con la persona non c'è il non ti devi arrabbiare se ti tocco qui, ma c'è il io che mi apro, quindi tu che fai la domanda giusta, ma io che mi apro e dico sono… mi sono sentito così perché tu non lo puoi neanche immaginare, ma perché per me in quel momento quella frase, quella toccata, qualsiasi genere di cosa mi ha fatto sentire a disagio. Assolutamente. E volevo chiederti una cosa a te al riguardo, mi è venuta in mente mentre parlavi. Secondo te questa apertura da parte tua è stata facilitata dal contesto nel quale eri? Nel senso che… Sì. Sono in Italia circondato da amici e mi apro così tanto, ho paura, ho paura perché agli occhi dei miei amici ve l'ho visto in modo diverso, eccetera. Lì magari stai parlando con una persona di cui non te ne fregava niente e questo ti aiutava di più ad aprirti o no? Sì, ma la cosa principale è stato ripartire da zero. Cioè non è stato tanto il ho davanti persone diverse, ma è stato il non ci sono pregiudizie ad anteriori, quindi posso dire ad anteriori, no? Sì, a priori. A priori, a priori, sì. Quindi sì, sicuramente poi le persone che avevi davanti erano diverse, però questo non significa che le persone che sono rimaste a Bergamo valevano meno, più… Cioè era proprio la mia attitudine che era il… io qui mi metto a nudo e ti dico questa roba mi dà fastidio per questa ragione. Sì, no, in realtà appunto la domanda era, cioè se vado in uno stato nuovo, no, del quale non mi interessa, cioè dico vabbè in caso me ne posso andare, magari mi metto anche nudo in piazza, dico vabbè cazzo me ne frega, queste persone non le vedrò mai più, ciao, cioè reputi che le persone che ti stanno intorno magari siano meno importanti perché tu vieni da un'altra realtà e ci tornerai magari, non era il tuo caso. Cioè dico magari ho pensato quello, ho pensato… Quale è sempre perfetto da farti. Quando ero in Italia, sai, tra i maschi è una roba che le persone vengono derise quando sono piccole, è il fatto di diventare calvi, no, ad esempio. Quando sei all'estero, in Italia non mi sarei mai raso i capelli a zero. Ma perché? Perché poi magari i tuoi amici ti guardavano e ti dicevano ah c'hai più capelli di qui, ah c'hai più capelli di qui. All'estero per me poi è stato il ma che cazzo me ne frega, cioè sto andando qui, riparto da zero, sanno da zero che io sono questo, quindi non c'è il simo di prima. Ok. Ma c'è semplicemente questo. L'elemento fondamentale non è stato dire queste persone vabbè chi se ne frega se mi vedo così, è io posso mostrare un nuovo me a ripartire. Cioè le persone magari le valutavano lo stesso modo, stesso grado di importanza, ma il discorso è sono ripartito, quindi posso mostrarmi in un modo diverso. Una roba che mi piacerebbe far tanto era che non faccio danni a radermi la barba a zero, tipo stile bambino, no? Solamente che mi rendo conto che lo faccio quando so che sono per una settimana di fila che poi ricresce in un posto nuovo. Ah ok. È quello che dicevo proprio, perché di quelle persone non ti interessano. Non sanno niente di te, ti vedono così e non è che devi… Ok. Cioè a me piace piacere. Sono una persona alla quale piace piacere assolutamente. a livello caratteriale, a livello fisico meno, ma soprattutto a livello di ho davanti quella persona, voglio fare bella figura. Sì, sì, sì. E quindi diciamo si è un po' ripresentata la stessa dinamica nel senso che adesso hai dato una tua immagine, o meglio, adesso sei andato via dall'Olando, però quando eri lì avevi dato un'immagine e quindi volevi tenere quella, quindi se ti capitava di andare una settimana all'altra parte facevi gli esperimenti, però tornando lì indossavi quel tuo Simone nuovo. O su Penshare, cioè che io faccio due o tre anni della settimana, ora se dovessi fare dico… non lo so. Ok, ok. Quindi è rimasto questo tuo carattere, questo tuo… Però ne sono aware, è diverso. Cioè ora le farei senza così tanti problemi, mi è capitato di farne altri. Cioè senza così tanti problemi. Quindi tu dici che il nuovo Simone non teme il giudizio degli altri? Teme meno il giudizio di se stesso di quello che pensano gli altri. Cioè ho dei meccanismi di difesa attraverso la quale se qualcuno mi dice qualcosa lo guardo e dico ma che cazzo… cioè mi sento molto più sicuro nel rispondere, perché tu non è che temi tanto il giudizio degli altri, tu temi a come ti senti se gli altri fanno un giudizio. Ok. Quindi ora il giudizio degli altri lo temi fino a un certo punto, non temo più il giudizio di me stesso in base a quello che gli altri dicono, quindi gli altri lo possono dire. Il mio meccanismo di difesa è completamente diverso. Non… cioè so che tanto, anche se lo dico a chi se ne frega, l'importante è ciò che penso io. Cioè invece prima Dio, ma adesso penso che questi diranno sta cosa. Invece poi magari sono il primo che la mette davanti questa cosa, no? Ok, ok. Quindi diciamo rispetto al passato ti senti più libero? Più sicuro. E libero, sì. La sicurezza ti rende libero. Ok. Viva la libertà. Allora, piccola domandina alla quale hai risposto già parzialmente, giusto una piccola precisazione. Il livello di accoglienza della gente che hai incontrato, ci sono stati… hai già letto che sono stati aperti nell'ascoltarti, ma proprio a farti sentire a casa tua, nel senso di dirti, vabbè ti do una mano, vieni qua, eccetera. Uguale al contesto nel quale sei cresciuto, cioè Italia, o diverso? Cioè tipo, ok, mi apro, ti ascolto, ti faccio riflettere, però io sono io, tu sei tu, devi crescere da solo, devi fare le tue esperienze da solo. Com'è? Allora, l'Italia è un paese che accoglie, partiamo da questo, cioè sì, abbiamo tantissimi problemi, ma è un paese che accoglie. L'Olanda è un paese che accoglie anche da un punto di vista linguistico, però non mi sono mai sentito a casa. Sono un po' distanti, distaccati. Cioè la cosa bella di tante persone in Italia, l'accoglienza secondo me è meglio in Italia che in Olanda, vi dico la verità. In Olanda funziona benissimo e dal momento che tu arrivi poi sei uno di loro, però sei uno di loro, assimili più… Significa, non è che, cioè ti hanno accolto, sei uno di loro, ok? Sì, poi la lingua ad esempio è una roba che è bellissima, perché in Italia purtroppo con l'inglese non vai da tutte le parti, in Olanda… Forse a Milano ce la puoi fare. Assimili anche lì, fino a un certo punto anche in Olanda, perché poi me ne sono sempre fregato i coglioni e ho parlato sempre e solamente in inglese. Più chiaro, sì. Va bene, no, comunque è interessante perché su questo punto quasi tutti rispondono. In Italia in realtà non c'è questo problema, siamo molto accoglienti e l'unica differenza è quando si parla di paesi latini, eccetera, che dicono che addirittura è ancora di più dell'Italia. Però l'Italia è un'accoglienza, c'è una scadenza. Ok. Questa è una cosa che noto. Bellissimo per X tempo, poi devi cambiare persone, perché poi la mia vita va… Siamo comunque tutti figli un pochino del… Siamo valorialmente molto individualisti come società. C'è un sito, a proposito poi ve lo consiglio, che fa vedere… Hanno fatto vari studi tra i valori individuali e collettivi della società. Quindi se tu cerchi su Google adesso, non so se qualcuno ce l'ha, individual versus collective values in European countries ti fa vedere dov'è la barra. Ok. Individual versus… Collective. Ok, e l'individual è tipo… L'individuo? Sì, sì, ma l'individual è tipo la barra? Cioè se questa è la barra, qua c'è l'individualismo, qua c'è collettivism, quindi in italiano è collettivismo. Siamo di là, no, dico siamo di là. L'Italia, a dire la verità, è qui l'Olanda è un pochino più individualista, è molto filoamericana, è sotto quel punto di vista. Sì, sì, esatto. Però poi hanno progetti, ad esempio, durante la guerra in Siria, quando io ero lì, che era scoppiata, hanno accolto molto bene, ha avuto dei progetti di integrazione migliori dei nostri. Ti sembra un po' criminale? Ci sono a volte delle gang o comunque cose strane in Olanda oppure è strasicura? Proprio che cammineresti anche alle tre di notte senza farti il minimo problema? Soprattutto a Maastricht perché ci sono così. Io sono allora da uomo e ti rispondo da uomo perché so in case di ragazze che sono state magari, succede anche all'estero, che purtroppo ci sono casi di harassment, molestie, quindi che siano da chi ti segue per strada, ci sono delle vie ovviamente in tutti i luoghi, ci sono delle vie più pericolose o meno pericolose, io da uomo sono sempre stato sicuro a tornare a qualsiasi orario della notte. Una cosa che mi ha stupito è che non c'è neanche un senza tetto in Olanda, non esistono o non si trovano da altre parti? In centro città sono molto bravi a non farli vedere, stile Venezia, le mascherano e poi c'è una roba, a dire la verità, molto bella che offrono gli alloggi e riescono, è anche uno stato più facile da gestire, funziona meglio, però anche per chi si droga ci sono le case per far drogare le persone che si vuole fare di siringhe. Sì, come più o meno anche in Svizzera è stato il discorso. Esattamente, quindi non hai siringhe in giro. Sì, no, ok, quindi voto, abitanti, accoglienza, persone in generale, da uno a quattro? Sono molto freddi gli olandesi, eh, due. Due? Oh. I miei amici che ho sono internazionali. Beh, potrei dare anche uno, eh? Sì, no, due. Due, due, due. Poco prima della sofficienza. Invece persone che hai conosciuto che non sono olandesi? Quattro. Quattro, bene. Perfetto. I olandesi che si sono uniti, ah, cioè. Poi nella compagnia, sì, sì. Quando sei nel tuo paese è molto più difficile mettersi in gioco quello il fatto, quindi non ce l'ho mai con gli italiani, perché è molto più difficile per un italiano. Quando mi dicono tu ce l'hai fatto per gli italiani, per me è facile, cioè per me è stato veramente facile mettersi in gioco rispetto a una persona che rimane. Sì. Cioè io nutro più rispetto rispetto a quello che ho fatto io per chi è riuscito a cambiare rimanendo, piuttosto che chi è riuscito a cambiare andandosene. Andandosene è più facile. Forse perché ricevi più stimoli e c'hai il piatto che ti viene servito di sotto. Eh, ti viene servito. Poi devi essere bravo sicuramente ad andarsene. È vero, è possibile in realtà. No, no, cioè. Siccome sono comparabili, perché tu hai avuto altri problemi da quel punto di vista iniziale, cioè non deve essere, è un bel trauma. No. Quindi ci sta. Però, d'altro canto, dici uno, stando sempre nel suo guscio, eccetera, riesce a cambiare, significa che ha fatto qualche ricerca, cioè è rimasto lì. Difficile cambiare in un contesto che ti spinge a rimanere lo stesso. Vorrei affrontare l'ultimo capitolo con voi ragazzi, ed è un capitolo, diciamo, fondamentale per Simone, ovvero il capitolo dell'educazione. Come funziona l'università e in generale l'educazione in un altro paese che non sia Italia? Se vuoi puoi parlare a ruota libera oppure ti do qualche dritta. Dimmi tu. Per esempio. Fermatemi voi, cioè ditemi voi le domande. Ok, 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 ok. Ok, stiamo qui sul punto. Ok, allora, prima di tutto ci hai già risposto parzialmente prima, però l'approccio professore-studente come cambia? Nel senso, c'è qualche differenza rispetto all'Italia? Sì. Io mi ricordo della più grande figura di merda che ho fatto in università, ero appena entrato. E c'era il ballo della scuola, molto americano anche qui, no? E realmente, essendo su di drink e robe del genere, gli avevo mandato una mail dicendo You're the best, professore, è vero di una roba del genere. Ma che cazzo? Come si chiamava il professore? Si chiamava Philip Post. Quindi bimba di Philip. Bimba di Philip? Eri la bimba di Philip? You're the best professor, I love you. Il cazzo bimba di Philip mi ha chiamato nel suo ufficio per dirmi, va bene che, e qua mi ricollego in Olanda, è molto orizzontale, non verticale, anche l'approccio è uno a uno. Ok. Però ci sono delle linee rosse che non sono da superare, soprattutto tra rapporto studente, cioè anche perché poi quando poi sono andato a insegnare, se mi fosse successa una roba del genere io avrei detto lo stesso ai miei studenti, no? Però ecco, l'approccio è molto più... Allora, prima di tutto a Maastricht c'è un sistema che è PBL, quindi classi piccole, problem-based learning, c'è un tutor, sono classi piccole e il tutor è uno di voi, no? Cioè uno di noi. Ok. Certo, sta le robe, e poi rispondono tutte le mail, cioè per me quella è una delle robe principali. Sì. Entro una settimana tutti ti rispondono, ti danno meetings, ti aiutano, ti trattano alla pari, cioè anche perché... È bello questo, cioè questo è un grande aspetto positivo. Scusami, non ho capito, è pubblica l'università? In Olanda sono tutte parastatali, costano 1.900, adesso 2.000, 2.046 ora, ma non esistono. Era giusto per capire qual era il contesto? No, no, sono tutte così. E una cosa che a me piace è che danno valore, e diamo, io da poi insegnante, c'è le idee migliori, non si hanno a 50 anni per forza, cioè Leopardi ha scritto l'infinito a 21 anni, lo diceva forse Galimberti questa cosa, no? Hai assolutamente ragione, cioè a volte ci convinciamo che bisogna avere un bagaglio di esperienze, eccetera, e magari a 19 anni succede qualcosa di immenso, e non sappiamo neanche spiegare come, però succede. Lo sta facendo forse anche Malloro in questi giorni, non so se avete presente uno youtuber, che lui ha il suo videomaker che ha 20, 22, 23, 24 anni, non mi ricordo, e dice, cioè sono sorpreso, lui ne ha 34, 10 in più, sono sorpreso dalla creatività. Poi gli errori a 20 anni ci stanno, cioè gli errori anche proprio di esperienze. Però quando si intravede questo potenziale, cioè quello che il compito del professore è, guarda, ti prendo e ti porto lì. Invece qua in Italia c'è più, oh, tu cerchi, stai al tuo posto perché sembra che tu voglia saperne più di me. Cioè invece lì non è che, cioè, io sono il professore, io ho studiato, cazzo. Non venire ragazzino a rompermi i coglioni. Invece lì c'è più l'idea di, cazzo, ho intravisto che questo, questo sta fermentando lì, tiriamolo su, sono un tuo pari, parliamo, cioè abbattiamo un po' le barriere. Poi ovviamente si creano anche questi, magari questi fraintendimenti, a volte fai, sfori la linea, e ci sta che lui ti abbia anche riportato forse in careggiata. Sì, qua, ma ti faccio anche un altro esempio, nella mia tesi di triennale volevo fare una roba che era realmente pericolosa. Io volevo andare in Africa, in una discarica di agloblosci, mettermi lì in mezzo alle persone, vedere se i rifiuti elettronici, lui mi ha detto, l'idea è bella. L'inesperienza poi, di avere 23 anni, quando mi sono laureato, di dire, non puoi andare lì, chi cazzo sei? Cioè, non mi ha detto in modo che non mi fa, perché non metti un GPS, facciamo queste ricerche, poi più avanti puoi andare lì sul campo. Ma l'idea la sviluppi comunque. Cioè, quindi l'idea rimane, l'inesperienza dei 20 anni, nel dire, vado lì, spacco il mondo, conosco tutto. Do cazzo vuoi andare? Però l'ha fatto in un modo molto bello, cioè nel senso non ti ha bloccato, non ti ha frenato, ti ha fatto solo riflettere. Esatto. Non ti ha demolito. Qua invece c'è lì. Non ha tagliato le ali, ma mi ha detto, metti un velo dove non arrivi al sole, sennò ti bruci. Sì, bello, molto bello questo approccio. Bravo il professore. Vincent, lo ricordiamo. Grazie Vincent, you are the best. Da come me lo sto descrivendo, l'università all'estero sembra, o meglio, lì è più un luogo di crescita, più che di istruzione. Esatto, anche l'approccio. Esatto, cioè non sei lì per ricevere delle istruzioni, per imparare qualcosa, ma sei lì per crescere. Ma tutti quanti, professore compresi. Per fiorire. Perfiorire. Forse c'è molto anche il problema di cosa piace a lui. Vediamo, scopriamolo, non cosa fa comodo a me. Questa è una cosa che, vabbè, la dico qui, non so se l'ho già detta, però io non sono molto soddisfatto, francamente, di aver iniziato il dottorato in Italia. E una cosa di cui sono stragrato è il fatto che sia andato molti mesi a Zurigo, perché lì ho incontrato una persona che appena mi ha visto mi ha detto semplicemente ciao Salvatore, innanzitutto non chiamarmi professore, sono Peter. Scrivimi l'email come Peter. Secondo, ok, ho visto il programma, ho visto che Lorela ti ha fatto una scheda molto dettagliata, eccetera, però tu, che cosa vuoi fare? Tu, partiamo da te. E c'è questo porre me al centro, mi ha fatto dire, cazzo che bello, finalmente, non devo semplicemente ricevere ordini e poi, vabbè, smazzarmi le io, eccetera. C'è comunque il tuo grado di autonomia, ma lui mi ha detto, cosa vuoi fare tu? Partiamo da questo e costruiamo un nuovo programma. Bellissimo. Quindi, nella mia piccola esperienza, che sicuramente è molto meno intensa della tua, insomma, e poi anche molto più concentrata, ho notato sta cosa e ti capisco, ti capisco molto. Non l'avrei forse capito se non fossi andato a Zurigo, non l'avrei forse capito. È difficile, ragazzi, quindi questo è per spingervi, anche se comunque volete fare le cose in Italia, finire in Italia, un piccolo periodo giusto per capire cosa c'è di là. E, ok. E può andare male, come se può andare male. Può andare male, ma non c'è niente di male, ma perché cazzo deve andare tutto bene? Può andare male, ragazzi, non c'è niente di brutto, va bene, che vada male. Ok, allora, in sostanza dell'educazione abbiamo detto quasi tutto e volevo solo chiederti questa cosa. C'è un'organizzazione diversa nelle tappe da seguire, nel senso che noi, per esempio, all'università, perché ovviamente è quella che ti compete di più e abbiamo appunto sistema accrediti, esami che devono essere fatti, puoi darli quante volte vuoi, arrivi a un certo punto che devi fare la laurea magistrale oppure triennale, ti metti d'accordo, studi, bla bla bla, e scrivi. Lì sono organizzate diversamente queste tappe, magari, insomma, ti dicono prima facciamo sta cosa, poi pensiamo alla tesi, oppure all'esame, devi finire, non lo so. No, in linea di massima, paradossalmente c'è più flessibilità in Italia, ho visto in tanti luoghi che la tesi la fanno prima, dopo. Lì è quello, hai determinati periodi per far quello. Sono olandesi, eh. Sono più schematici. È molto schematico. Puoi uscire molto dagli schemi, ti danno tante libertà, è questo, però, ad esempio, terzo, quinto semestre fai l'internship, te lo trovi tu, ovunque, vai dove cazzo vuoi. Sì, però devi farlo e devi andare in questo mese. E comunque adesso voglio spezzare una lancia a favore anche, non a favore del sistema italiano, ma contro il sistema olandese, così ti racconto una storia interessante. è vero, sono molto strutturati, eccetera, eccetera, e rispettano le varie idee, i vari modi di fare, però hanno anche i loro limiti, nel senso, il modo di vestirsi a volte purtroppo conta, meno, però, ad esempio, io il terzo anno che ho insegnato in Olanda, per me una delle robe principali è stata il… a me avevano offerto una roba che poi non è andata a buon fine, per qualche parametro non rientravo lì. E lo stesso anno io ho vinto il premio per migliori insegnanti dell'università, che per me è stata il… e ho fatto questi, cioè ho avuto il caraggio di fare questi tatuaggi. E loro sono stati molto attenti a quello? Noti che comunque, in un modo o nell'altro, io li nascondo in Italia, li avrei nascosti anche lì. Quindi, quando si romanticizza un'altra volta all'Olanda, eccetera, eccetera, fino a un certo punto, per me questo è stato dopo tre anni che guardavate di qui, di lì, com'era la persona, il segno di autorevolezza, per me l'autorevolezza è stata… è una roba che lotto costantemente anche con i social, perché sono basso e per me essere basso, a volte più la persona è alta, più gli dai età, sembro giovane, quindi insegnare a 25 anni. E per me questo è stato il segno generale, i tatuaggi sulle mani, di dire voglio dimostrare, ma in primis a me stesso, che nonostante io abbia questi tatuaggi, valgo. Beh, ci ho basato l'esistenza. Qual è il significato dietro i tatuaggi? Ma allora, il significato dietro i tatuaggi… questo qui rappresenta un pochino tutti i bambini che durante le varie missioni umanitari che cerco di fare durante gli anni vengono… in generale non c'è una bambina, un bambino, in particolare le bambine, adesso anche se sta andando via la gonna perché devo farlo ripassare, perché solitamente sono quelli che vengono stuprate in tanti posti. Questo che sta andando via rappresenta… mi hanno detto… io non credo in niente, non credo in astrologia, non credo nelle religioni, non credo a un caccio di tutte queste robe qui, non sono un believer, anzi ho dei problemi nei confronti della morte infiniti. Non hanno un gran chiede significato, o almeno nel momento che li ho fatti mi ricordo di aver visto in internet che cazzo significassero, ma non me lo ricordo. Ma perché? Perché non ci credo. Cioè, ci credessi me li ricorderei. Ok. Ho detto giusto. Il fatto che tu te ne sia dimenticato significa l'importanza che gli davi, cioè non te ne frega niente. Esatto. Però è giusto anche così, ripetiamo, cioè nel senso… perché anche io te l'ho fatta questa domanda ieri, hanno qualche significato ma non mi aspettavo che ci fosse, te l'ho solo chiesto. Cioè nel senso, va benissimo anche se uno mi dice no, mi piaceva, l'ho fatto fino. C'è sul telefono, ma il significato c'è dal momento che glielo dai, dal momento che c'è perché c'è il coso. Cioè questo significa tutt'altro. Magari significa credi nel tuo spirito interiore, dell'anima. Il significato, se vuoi glielo dai tu, può essere anche sbagliato, ma l'importante è che per te abbia un senso. Esatto. Oppure puoi anche decidere di non darglielo perché a te piaceva. Esatto. Va bene. Solitamente quando ti fai un tatuaggio poi acquisisci un suo significato perché inizi poi puoi visualizzarlo, a vederlo, ci fai l'abitudine. Ma paradossalmente ti dico, magari non lo so, però potrebbe anche significare il fatto che con questo tu vuoi dimostrare che puoi fare il professore anche se c'è la mano tatuata. Questo è un affronto, cioè è un significato. È il mio secondo tatuaggio preferito, ho uno qui che è un cerchio con una freccia che tende a star qui, che vorrei far vedere, ma immaginate un cerchio, non chiuso, ma con un puntino in mezzo che sarei io e una persona che cerca di tenerlo aperto. Ok. E per me quello è il significato quando mi dicono, sai che prima ti dicevo i due motti. Sì. Quello è il significato mio della vita, il fatto di dire cerchiamo come esseri umani io stesso la normalità, la routine, perché ci piace, è bella, anche a me personalmente piace. Per me la vita è una lotta. Nel cercare di tenerla aperta, anche quando non voglio, ma di tenerla aperta perché mi sento vivo. Altrimenti se la chiudo, che è quello che una persona umana, io in particolare, tendo a fare normalmente, si chiude e poi io che sono il puntino rimango intrappolato. Sì, sì, sì. Giusto. Quindi ok, ok, rimane lì. Bello. Molto bello. Te lo farò vedere, è fatto a mano, fa schifo. Cioè è proprio bruttissimo, è fatto male. Ma chi se ne frega? Esatto. Chi se ne frega? Magari è anche più bello per questo. Chi se ne frega? Vabbè, noi solitamente chiudiamo la puntata con una frase di effetto da parte dell'ospite. Sì, esatto. Prego, ospite. Mi hai messo in difficoltà? Ecco, lo sapevo. Ecco, alla fine. Ma se tu guardi le nostre puntate, faccio sempre questa domanda, cioè ti ho messo in difficoltà due volte. Uno perché ti ha detto se tu guardi le nostre puntate significa che non le guardi. No, allora, la frase di effetto, dire la verità. Secondo me la cosa che racchiude più di tutto questa, ma perché me l'avete fatta dire prima? Quindi ne ho dette un po' prima e quella della maglietta che è il ti rispetto ma sono scettico, io me l'ero tenuta ma l'avete spoilerata all'inizio. Riprendiamola dai, riprendiamola. Ma ce ne se ne può pensare ad una, secondo me, frase d'effetto, dire la verità, è questa, che racchiude un pochino la filosofia e anche qua metodo che sto prendendo tempo perché non ce l'ho in questo momento in testa, no? Quindi ora sto gesticolando per arrivare… L'ho capito. L'ho capito. Non ti preoccupare. Potrebbe essere prendo tempo perché devo pensarci. Ah, prendo tempo. Ecco. No, allora, la rubo. La rubo a questa persona e la frase è il punto che esce dallo zero e diventa dieci. Quindi ritornando a quello che dicevamo prima, c'è il punto che sei tu all'interno e se riesci all'uscire arrivi al dieci che è considerato il simbolo perfetto secondo molte persone. Quindi concludo con questa frase. Wow. Rubandola. Benissimo, ragazzi! Ma in realtà ci sarebbe anche un'altra domanda che è estremamente originale, l'abbiamo inventato noi. Sì. Ma essere Simone di Pencher fa scopare di più? La frase buttata così in muschio selvaggio che ovviamente non… Ho visto, ragazzi, io di lato vedevo tipo… Non si può dire, non si può dire. Sono fidanzato da otto anni, comunque. Quindi no, non so risponderti perché realmente… Magari tu è proprio partner. Bellissimo, ragazzi. È l'intro questa della puntata. Allora, comunque ragazzi, non ti preoccupare, ragazzi, ringraziamo tantissimo Simone. Cioè, bellissima puntata, abbiamo toccato delle vette. inimmaginabili. Spero che vi sia piaciuta. E noi ci rivediamo come sempre ogni due settimane, ogni martedì. Ci vediamo, ragazzi! È venerdì! È venerdì! Grazie a voi! Ogni venerdì! Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Gianni! Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie a te, Simo. Ciao! 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 Ciao!